Europa Digitale 2021-2027 Un programma che darà la possibilità di imprese, industrie, pubbliche amministrazioni e cittadini europei di investire nelle capacità digitali strategiche. 9,2 miliardi di euro per finanziare, sviluppare, incentivare progetti relativi alla digital technology. Supercalcolo, intelligenza artificiale, cyber security, competenze digitali. Gli obiettivi, tanti e ambiziosi. Assicurare che tutti gli europei abbiano le competenze e le infrastrutture necessarie per rispondere a tutte le sfide digitali della loro vita privata e professionale. Aiutare le piccole e medie imprese e le amministrazioni pubbliche a fornire al proprio personale le competenze avanzate necessarie per poter accedere alle nuove opportunità e conoscenze dell'era digitale. Plasmare la trasformazione digitale a vantaggio dei cittadini e delle imprese per rafforzare la leadership mondiale dell'Europa. Creare delle biblioteche europee di algoritmi accessibili a tutti per aiutare i settori pubblico e privato a conseguire soluzioni più adatte alle loro esigenze. Beneficiari della strategia digitale dell'Unione Europea saremo noi perché Europa Digitale consentirà alle nostre imprese di nascere, crescere, innovare e competere. Consentirà a migliorare la situazione climatica grazie all'ausilio delle tecnologie digitali. Consentirà a noi cittadini europei di migliorare la nostra vita quotidiana grazie alla Digital Technology. Europa Digitale 2021-2027 Siamo pronti per il futuro Siamo pronti per il futuro Siamo pronti per il futuro